Buongiorno a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, bene ritrovati per questo appuntamento quotidiano con la carta stampata, sfoglieremo come sempre i quotidiani che poi troverete in Odicola faremo un flash, un sorvolo sui titoli principali, prima però guardiamo le previsioni del tempo e anche il santo del giorno, oggi mercoledì 17, San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della chiesa, il sole è sorto alle 6.49 e tramonterà alle 19.16. E quindi previsioni del tempo, tutto sommato un tempo abbastanza stabile, quello che ci dice la protezione civile Marche e quindi andiamola a guardare anche insieme alle cartine, vediamo per oggi mercoledì 17, il cielo è sereno e poco nuvoloso, debole l'attività cumuliforme, più che altro nelle ore centrali della giornata, ma dicono precipitazioni assenti, vediamo per domani, giovedì, anche qui più o meno lo schema è lo stesso, c'è un'intensificazione nuvolosa maggiore, più che altro nel crinale appenninico e la fascia costiera e collinare avrà flussi però in alta quota. C'è qualche possibilità di isolato rovescio nelle ore però centrali della giornata ma riguarderà il crinale appenninico, in diminuzione i valori. Per venerdì, quindi ultimo giorno della settimana, dopo inizia il weekend lavorativo, naturalmente sarà un cielo irregolarmente nuvoloso, come vedete anche nella nostra provincia le nuvolette sono due, possibilità di deboli e locali piovaschi, le temperature però sono in aumento. Le temperature però, come vediamo, si attestano sui gradi dei giorni passati, 13-21 gradi, quindi insomma tutto sommato ancora intorno ai 20 gradi le massime e anche domani, giovedì, dai 14 ai 22, quindi tutto sommato un tempo abbastanza stazionario in questa parte del mese. Apriamo subito le pagine dei giornali, iniziamo dal Corriere Adriatico, Pesaro, una notizia che sarà presente in tutte le testate, operazione dei carabinieri, rapinatore arrestato, si cerca il complice, hanno, rubarono del rame in un capannone, hanno speronato anche l'auto del titolare che li aveva sorpresi a rubare, è stato identificato anche l'altro bandito. Poi sempre un'azione di contrasto alla criminalità, vede la polizia che arresta un ladro che rubava nelle bancarelle della fiera di San Nicola. Ritornando sui ladri di rame, la didascalia del Corriere dice che in sei minuti avevano arraffato rame e cavi elettrici per un valore di oltre 3.000 euro. E poi la mobilità sostenibile a piedi di pagina è stata tale più sicura perché 11 attraversamenti illuminati avranno naturalmente il supporto dell'illuminazione per rendere l'attraversamento dei piedoni più sicuro. È stato approvato il progetto dalla Giunta, i lavori però inizieranno a Urbino in autunno. Allora leggo anche di spalla questa notizia perché l'assessore del Noce a Pesole dice nasce l'ufficio sviluppo, lo sviluppo opportunità per gestire tutte le attività del comune e quindi informatizzare, animare, insomma tutto quello che è il coordinamento del suo assessorato. Allora la notizia è anche questa, purtroppo l'incidente che ha visto alle porte di Urbania perdere la vita il giovane informatico che vediamo ritratto qui nella foto, un'auto gli taglia la strada e finisce contro un'altra vettura. Si chiamava Andrea Nardi, era di Peglio e aveva 28 anni. In basso, sempre da Pesaro, il ristorante La Grotta di Barbarossa vince il bando per gestire il mercato delle erbe nel weekend. L'obiettivo, quello di Matteo Ricci, la promozione del territorio. Apriamo le pagine di Fano del Corriere Adriatico, ci sono incontri sulla scienza promossi da Argonauta che sollecita Marchegiani, l'assessore e poi a centropagina, taglio centrale, l'auto imbottita di Ascist per gli studenti. Operazione della polizia, 4 kg di droga nascosti dietro il sedile del conducente, arrestati due giovani corrieri. Anche questa è una notizia che riprendono tutte le testate di grande importanza perché si tratta di droga destinata ai nostri ragazzi, ahimè, forse non è casuale la riapertura delle scuole con questo flusso di droga. Infatti i due magrebini provenivano da Torino, subito fermati e perquisiti al casello autostradale di Fano. Le sostanze stupefacenti servivano per ravvivare i weekend prima del via della scuola. In basso, questa è una notizia che vorremmo vedere subito realizzata, il percorso fanese della ciclabile, la questione finisce in consiglio, l'illuminazione, un'illuminazione necessaria sulla pista ciclabile, visti anche i recenti fatti di cronaca e quelli dell'anno scorso dove ha perso la vita un ciclista. Quindi arriva l'interpellanza del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle per illuminare il tratto fanese della ciclabile. Rimaniamo nelle pagine che riguardano Fano perché la stagione ormai si è conclusa, si tirano le file, si tirano le somme di com'è andata e si pensa all'inverno. E appunto il titolo è estate in grigio, si pensa già all'inverno. Tre attività però hanno chiuso i battenti, intanto impartono gli incontri e le iniziative per i prossimi mesi, ma il commercio naturalmente non gode di buona salute, è in crisi e Francesco Mezzotero, il segretario di Confcommercio, appunto commenta che sono necessarie le agevolazioni anche sugli affitti perché i costi fissi dei negozi, degli esercenti in centro sono veramente elevati. E poi sempre in tema di bilanci, il Festival del Brovedetto, grandi numeri, però la categoria non è compatta e quindi vediamo però che questi numeri sono veramente importanti. Nel weekend si sono mangiati 7 mila piatti di zuppa al giorno e che se sommati all'anteprima e all'asporto arrivano a 20 mila, veramente numeri veramente grossi. Andiamo nelle pagine del resto del Carlino, apriamo quelle di Fano, come vi dicevo l'importante azione della Polizia, bloccati due corrieri con 4 kg di droga, asci per i giovani locali. Arrestato, l'arresto è avvenuto al casello autostradale, arrivavano da Torino. E poi un fatto di cronaca che riguarda gli amici a quattro zampe che spesso non sono poi così amici soprattutto quando non si tratta del loro padrone. Azzannato da un cane deve essere trasportato all'ospedale, la brutta avventura un dipendente comunale di Sant'Orso, l'uomo ha avuto 14 giorni di prognosi perché per difendere il suo cagnolino di più piccola taglia verso un cane di più grossa taglia che girava liberamente per i giardini, si è messo in mezzo ma ha avuto la peggio. L'anomale di grossa taglia ha provocato ferite profonde con una copiosa perdita di sangue. Ancora dalle pagine del resto del Carlino, avete visto anche i nostri servizi, insomma non tutte le scuole godono di buona salute e anche quelle fanesi, siamo andati al liceo scientifico e proprio dal liceo scientifico viene evidenziata nelle pagine del Carlino una realtà poco piacevole, vedete nella foto i giardini antistanti l'entrata del classico, non godere di buona salute. E allora Simona Ricci della CGL dice armiamoci di falcetto e andiamo al campus per pulire i giardini del liceo. A chi spetta l'impegno spetterebbe la provincia ma faccio appello alla cittadinanza attiva, quindi un'iniziativa promossa per rendere più decoroso l'ingresso delle scuole del campus. E poi la pagina dedicata alla politica, le nomine alla fondazione teatro, grembiolini e incarichi, il PD si divide, il caso Tiziano Busca chiamato dalla CDA della fondazione e dal presidente Katia Amati. Cristian Fanese, il fanesi, il capogruppo consigliare dei democratici si dice io non voglio commentare su questo argomento, però nella lettera mandata da Silvio Franchini a tutto il vece del PD dice appunto a riguardo della nomina di Busca è un errore politico e bisogna prenderne atto perché se si porterà avanti questa cosa si passerà l'idea di un partito e di una politica in declino e quindi produrremo demotivazioni e defezioni, questa è l'idea di Franceschini. Allora, andiamo a vedere un'altra pagina che riguarda il resto del Carlino, Coda Lunga su Marotta Unita, sembra una never end story questa qui, adesso Marotta Mondolfo, il nuovo nome del comune a presentare questa opportunità è Vittoriano Sollazzi che ha depositato l'atto e questo fa scoppiare un po' di polemiche tra i politici, ora la divisione è tra entroterra e Costa, Marotta Mondolfo, Mondolfo Marotta, anche qui ci si divide sul nome, vedremo come andrà a finire. Andiamo nelle pagine del messaggero, apriamo col messaggero Pesaro, naturalmente provincia il futuro inquieta, i dipendenti amareggiati dopo il congelamento del ticket, sono tagli lineari, dicono, i lavoratori a tempo indeterminato temono possibili trasferimenti e non siamo utili. E poi al centro della pagina l'incidente costato la vita al giovane informatico, dramma a Urbania, di spalle di fianco giovani al centro del convegno della Diocesi, venerdì e sabato l'appuntamento dedicato alla formazione e all'educazione. Il tema del seminario voluto dall'arcivescovo è nuovo, umanesimo, al tavolo dei relatori si alterneranno sociologi e sacerdoti. Il meteorologo ci dice che il sole si alterna alle nubi, lo abbiamo anche visto nelle cartine. E allora la provincia quale destino per i suoi dipendenti, cosa andranno a fare, quali saranno le loro prerogative? Amaro, il fronte della provincia, futuro incerto e addio ai ticket. Parlano questa volta i dipendenti dopo il congelamento dei buoni e dicono appunto solo tagli lineari. Le incognite sui possibili trasferimenti di sede lavorativa non siamo utili e si agisca però sugli sprechi anche veri. E qui a pie pagina una notizia che abbiamo rivisto anche quest'estate, una polemica con alcuni turisti che erano arrivati a Pesole, se ne erano andati via perché non c'era la spiaggia di vita ai cani. La spiaggia dei cani si farà, è ok, ma lontana però dagli stabilimenti balneari. Quindi anche Pesero si appresta ad accogliere, come già Fano fa da diverso tempo, gli amici a quattro zampe dell'uomo. Naturalmente chiudiamo con l'ultima pagina dedicata a Fano dal messaggero. Di spalla la vicenda delle nozze gay, polemiche e ricorsi ai prefetti di Pesero e anche di Polonia e da Fausto Schermi parte una provocazione e dice sono sposo una donna in Italia, poi vado in Olanda e mi faccio arrestare perché lì il reato di bigamia è vigente e quindi per attirare l'attenzione. E poi la ciclabica Fano-Pesero senza luci è pericolosa, questo è ormai chiaro, al centro della pagina i sequestri di chili di droga fatti dalla polizia per feste in spiaggia e quindi insomma veramente i nostri giovani erano i bersagli di questi spacciatori. I panetti di Ascis scovati dalla polizia erano destinati appunto soprattutto ai giovanissimi. L'ultima notizia che vi evidenzio è questa, lo Shan si amplia e i negozianti sono in allarme, commercio e confecenti preoccupate per la sopravvivenza delle attività piccole nel centro storico. Con quest'ultima pagina del messaggero chiudo qui questa edizione di Occhio ai giornali che naturalmente tornerà domani mattina a 7.45 ma questa sera c'è l'appuntamento con il nostro notiziario, il nostro Tg Occhio alla Notizia. Buona mattinata a tutti voi e buon proseguo di giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.